Ciao a tutti ragazzi, qui è ARK e vi parla. L'HUD di Black Ops 4 è davvero un problema così grande, davvero una delle cose che guardiamo Black Ops 4 e pensiamo oddio, diventa veramente ingiocabile perché metà dello schermo è bloccato dall'HUD. Parto dicendo che personalmente non mi è dispiaciuta così tanto l'HUD di Black Ops 4, sicuramente lo stile più minimalista presente su Black Ops 1, 2 o anche 3 è molto molto più bello, sia visivamente, sia diciamo è più efficace perché sono un po' quelle cose che veramente ci possono interessare da poter leggere nella nostra partita, che siano i punti, i perk che abbiamo, le nostre munizioni e qualche altra informazione aggiuntiva come le granate, le granate speciali. Da Black Ops 3 in poi le Gabblegam erano nella parte premendo select o nella parte in alto con la freccetta se avevamo una Gabblegam, mentre su Black Ops 4 è chiaro che ci siano molti elementi in più. Abbiamo la faccia del nostro personaggio, i punti vita oltre ai punti normali, in alto a sinistra il nome della zona in cui ci troviamo e il round, in basso al centro abbiamo i perk, anche se ancora non li abbiamo acquistati, ci sono già tutte le icone e i loro nomi, e a destra abbiamo arma speciale, granate, l'arma con anche i colpi e la sua icona e sopra gli Elisir. Parto dicendo che la QD secondo me poteva essere molto molto peggio e mi ricordo che già qualche giorno prima dall'uscita di Black Ops 4 qualche gameplay era uscito fuori e tutti parlavano del fatto, oddio questa QD è veramente molto molto strana, chissà come ci abitueremo o fino a subito la gente diceva non mi piace per niente, non so se mi piacerà anche Black Ops 4. Non penso che la QD sia il problema principale di tutti quelli oggettivi di cui abbiamo visto di Black Ops 4 abbiamo discusso in veramente tantissimi video che non sto neanche ad elencare, però specialmente al lancio e nei mesi successivi una grossissima critica a Black Ops 4 e alla sua QD che era molto molto invadente, in certi versi anche superflua, con informazioni probabilmente inutili come per dire anche soltanto gli Elisir tutti lì in alto a destra non ha troppo senso, avere i perk in anticipo anche una volta non comprati non è proprio il massimo, l'immagine del personaggio ci può stare che sono informazioni aggiuntive, anche i punti vita ok, però appunto rispetto ai capitoli precedenti che erano molto minimalisti, vediamo che ci sono tantissimi elementi aggiuntivi che occupano anche molto spazio, pensare anche soltanto alle granate o l'arma speciale che su Black Ops 3 era inserito praticamente insieme all'icona dell'arma, quindi si riusciva a ridurre anche almeno in parte tutto questo spazio utilizzato per la QD che altrimenti sarebbe più libero al gameplay alla vista della partita. Ho notato specialmente che in tutti questi mesi, in tutto l'anno precedente di Black Ops 4, c'è sempre stato qualcuno che ha cercato di un pochino ridimensionare la QD dal suo punto di vista o con Photoshop, con immagini fatte un primo o meglio, anche immagini fatte un primo o peggio, ma comunque tutti quanti vogliono dare la loro opinione, comunque la loro versione della QD ottimizzata per Black Ops 4, in modo che appunto non sia così opprimente per quanto riguarda la visione del giocatore che deve essere legata alla partita, agli zombie, aprire le porte, fare passaggi degli easter egg, qualunque cosa e deve darci soltanto le informazioni veramente utili, quindi ci può stare il nome della zona, ovviamente il round, i punti, ci può stare l'immagine del nostro personaggio perché dal punto di vista della storia e dei dialoghi specialmente ha più senso a questo punto capire fin da subito chi siamo e non per forza come su Black Ops 2 guardare le mani e i guanti da lì intuire il nostro personaggio, i punti di vista del nuovo sistema di Black Ops 4 introdotto appunto con questo capitolo, quindi è chiaro che ci sarebbe stato almeno un piccolo pezzo simile a come multigiocatore e Blackout. Forse già i perk che sono in basso al centro, che ci sono fin da subito e soltanto si attiva la loro icona che si accende, diciamo che non è proprio il massimo ma è appunto legato al nuovo sistema di crea una classe, il Peak 4, che è presente da Black Ops 4, quindi diciamo che moltissimi elementi aggiuntivi di questa H-Odic possono essere considerati magari superflui e non necessari, sono aggiunte di Black Ops 4 come praticamente tutto il sistema crea una classe, quindi da qui in poi è necessario che ci possa dare certe informazioni. Stessa cosa possiamo vederla a destra con le armi speciali, le granate che a questo punto si possono selezionare fin da subito, l'icona dell'arma e le munizioni, quello praticamente obbligatorio e in più appunto gli Elisir. Possiamo dire appunto che questa H-Odic poteva essere molto molto peggio ma vedendo i primissimi gameplay di Black Ops 4 va veramente molto strano rispetto anche soltanto a un Black Ops 3 perché ci sono molte informazioni in più e perciò dei giocatori non necessari, in primissima magari gli Elisir sicuramente potrebbero incastrare meglio tantissime altre cose, però mi sembra che col tempo magari la gente si è abituata dopo aver giocato così tante ore a Black Ops 4, diciamo che tutte le informazioni presenti a schermo vengono in parte rimosse dalla vista perché sono talmente ovvi come anche soltanto il round, la zona in cui ci troviamo, che Elisir abbiamo, che a un certo punto non ci facciamo più caso, però se torniamo ad esempio un Black Ops 3 o un Black Ops 1 o 2 si vede come ci sono veramente pochissime informazioni a schermo come soltanto i punti, forse l'immagine del personaggio, le nostre munizioni e praticamente abbiamo già finito, quindi sicuramente l'H-Od di Black Ops 4 è stata leggermente un problema, c'è da dire che poi in molti capitoli precedenti c'era un H-Od diversa per, non dico per forza tutte le mappe, ma molto spesso ogni mappa aveva un H-Od molto peculiare che potesse ricordare appunto la zona in cui ci troviamo la mappa, i personaggi, tutto il tema della mappa e quindi quello era veramente molto molto bello, mentre su Black Ops 4 praticamente non c'è nessuna differenza se non il personaggio, i perk, l'arma speciale, l'arma che abbiamo in mano, le granate, gli Elisir, sono tutte cose che ovviamente cambiano, ma quasi tutto, se non veramente tutto quanto è legato soltanto al nuovo sistema, crea una classe, quindi forse possiamo incolpare per il primis questo sistema nuovo introdotto con Black Ops 4 che sicuramente io pensavo una volta annunciato che fosse veramente molto molto adatto a zombie, avendolo già visto anche su Estinzione di Ghost, dove era veramente fantastico, quindi anche soltanto scegliere qualche piccola abilità, qualche arma iniziale o le granate, quello ci poteva stare, però sicuramente stravolgere tutto il sistema di perk, darci un'arma speciale, avere anche armi iniziali molto forti come una Strike con la baionetta, una Saug, un MOG, anche tutto il sistema degli Elisir che sono presenti a schermo e non per forza soltanto premendo Select o premendo all'insù per la Gabblegam, di Black Ops 3, il Talismano, tante tante altre cose e appunto questo sistema di Elisir con le freccette limita le nostre azioni possibili rispetto a un Black Ops 3, dove appunto l'unica cosa che si poteva premere per una Gabblegam era la freccetta all'insù, lasciandoci liberi lo scudo, lasciandoci liberi qualche coppeggiamento da poter ottenere e specialmente lasciandoci liberi le granate tattiche, perché a questo punto abbiamo soltanto uno slot per le granate, quindi se abbiamo le Raid e raccogliamo le scimmiette abbiamo solo le scimmiette, se abbiamo le granate normali e prendiamo l'Omunculo abbiamo soltanto l'Omunculo e non si può reottenere la granata normale, mentre nei capitoli precedenti era molto comodo avere le nostre granate base, specialmente su Black Ops 3, quelle del Widows, in più la granata tattica che forse un gherci delle scimmiette di quei di tante altre granate tattiche viste su Black Ops 3 in tutte le mappe contando anche Zombie Chronicles, mentre su Black Ops 4 è molto molto limitato e appunto le freccette sono soltanto le legate agli Elisir, tutti gli altri oggetti aggiuntivi e soltanto lo scudo da premere LB o L1, le granate sulla solita RB o R1 e poi soltanto gli altri tasti rimanenti che sono veramente molto molto pochi e non possiamo ottenere così tanti oggetti aggiuntivi, poi diciamo che questo sistema crea una classe ben praticamente tutto fin da subito, quindi non c'è molto da poter raccogliere, ma secondo me era molto più divertente su Black Ops 3 partire con praticamente zero oggetti, raccogliere la Gabble, costruire lo scudo, raccogliere degli oggetti aggiuntivi e avere tante cose da poter utilizzare durante la partita, mentre su Black Ops 4 fin da subito abbiamo un setup veramente incredibile, l'abbiamo parlato anche nel video riguardante il Jug che avere 200 o 250 di vita, specialmente i primissimi round risulta facilissimo perché è praticamente un colpo in più a quello di Black Ops 3 e due colpi in più almeno in normal rispetto a Black Ops 1 o 2, quindi i primi non so 30-40 round, comunque i primi round prima di comprare il Jug risultano molto facili perché siamo veramente molto molto forti, è equivalente appunto a un Jug originale o 250 di vita al Jug classico. Più aggiungiamoci l'arma speciale che praticamente a round 2 è già carica, granate forti come quei del Raid, elisir anche classici che sono molto molto più potenti se non potenti come alcune Gabble Gum rare o ultra mega rare presenti in Black Ops 3 dove c'erano sicuramente del Gabble Gum onnipotenti come specializzato, potere assoluto e tanto altro, alcune abbiamo anche riviste su Black Ops 4 sotto forma di elisir, ma alcune cose come armamenta che ci dà le granate così forti, dono temporale, qui proprio no, al senale accelerato, tante altre cose che ci permettono di essere veramente molto molto forti anche a round davvero basso con in mano una strife e soltanto qualche granata. Per cui come detto prima non incolperei direttamente l'HUD di Black Ops 4 che ha comunque qualche piccolo problema, non è proprio ottimizzata e alcune informazioni potrebbero essere sistemate in maniera molto più ordinata, però secondo me la colpa si può dare se proprio voglio andare una colpa a tutte le rivoluzioni presenti in Black Ops 4 che si ha, crea una classe, il cambiare le Gabble Gum in elisir e voler fare tutta questa rivoluzione e stravolgere alcuni sistemi, molti sistemi, che sono rimasti uguali per più di un decennio, come anche soltanto il sistema dei perk, il sistema della vita, il sistema delle granate e dell'arma speciale, che in parte hanno stato introdotto su Black Ops 3 come le armi speciali, c'è sempre stato il Ragnarok, c'è sempre stato anche il teschio di Nansafo e Anzezubunoshima, però anche quelle erano inserite insieme all'arma in quel pezzo di HUD in basso a destra che conteneva in uno spazio minuscolo molte informazioni e anche se erano molto in piccolo si capiva perfettamente le granate normale, le granate speciali, l'arma speciale, l'arma che avevamo in mano e le sue munizioni in uno spazio minuscolo, qua invece già è prolungato con le granate e l'arma speciale che hanno una barra di ricarica molto diversa dal solito, anche il sistema dei perk è completamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto in tutti i capitoli di Black Ops precedenti o anche tutti i capitoli di zombie contando Advanced Warfare, World War 2 e Infinite Warfare, lì al centro con un sistema di prendere soltanto 4 perk, gli elisir così a schermo occupano veramente molto molto spazio e anche tutta la sezione del personaggio con i punti e la vita diciamo che potrebbe essere secondo me almeno molto più piccola. Io ragazzi voglio invece sapere le vostre opinioni per quanto riguarda l'HUD di Black Ops 4, io mi devo dire che mi ci sono abituato abbastanza in fretta, però appunto tornando sui capitoli precedenti si vede come ci sono veramente moltissime cose a schermo e alcune sicuramente superfle, se torniamo su un Black Ops 1 l'unica cosa che possiamo vedere sono i nostri punti, l'arma che abbiamo in mano e le sue munizioni, praticamente abbiamo già finito, non c'è nessuna informazione aggiuntiva, c'è da dire che con Black Ops 4 ed anche da Black Ops 3 in poi ci sia molta più attenzione alla storia, alle zone in cui ci troviamo e tanti altri oggetti aggiuntivi, quindi è chiaro che l'HUD sarebbe diventata leggermente più grande o con molte più informazioni, ma forse Black Ops 4, come anche tante altre cose presenti nel gioco, ha fatto un passo leggermente troppo avanti, quindi spero che nel prossimo capitolo possano fare una sottospecie di via di mezzo tra Black Ops 3 e Black Ops 4 con qualche rivoluzione ma anche qualche passo indietro, comunque qualcosa che rimanga classico, che funziona come sempre stato su Zombies, se qualcosa funziona non va cambiata, però staremo a vedere un pochino cosa ci aspetta dal futuro. Spero come sempre ragazzi di oggi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo, un abbraccio, ala!